Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana ed oggi parliamo di una delle ultime letture che ho fatto e cioè In viaggio per la terra di mezzo, libro del più famoso mezzuomo d'Abruzzo, si può dire, cioè Nicolas Gentile. Per chi non sapesse chi è Nicolas, Nicolas è appunto il mezzuomo abruzzese che sta costruendo la Contea. Per tutti i dettagli del progetto, degli eventi e quant'altro, vi lascio qui nel box informazioni il sito internet dove, se volete, potrete anche fare una donazione per costruire la Contea Gentile in Abruzzo. Ma, bando alle chance, oggi ci dedichiamo a questo libro che in realtà è una guida vera e propria, come se fosse una guida introduttiva alla terra di mezzo. Dunque, partiamo come sempre dall'edizione. Il libro ha una grandezza tipica, se si vuol dire, di una guida, in rigida, prima di tutto, impreziosita dalle illustrazioni di Andrea Piparo, che adesso vi mostrerò. Prima che me lo dimentichi, il costo del libro è di 19,90€ e potrete trovarlo in tutti gli store e librerie. Prima di passare alla recensione vera e propria, vi dico già che la prima cosa che mi ha colpito sono state le illustrazioni, prima di tutto, i colori e i dettagli per la cura dell'edizione. Cos'è intendo? Una volta aperto il libro, nella prima pagina, io la chiamo prima pagina rigida e morbida, abbiamo questa bellissima illustrazione con un Hobbit nella sua Contea, diciamo così, e sembra realizzato in carboncino e l'espressione di questo piccolo Hobbit è talmente reale che sembra come se ci invitasse a casa sua e ci salutasse. Quindi, appena aprite il libro, è la prima cosa che vedrete. A fine libro non ritroverete l'immagine dell'Hobbit che ci saluta, ma avrete la mappa della Terra di Mezzo, questa volta più stilizzata, se così si può dire, ve la faccio vedere meglio. Quindi, già all'apertura del libro si può notare la qualità riversataci dentro. Ovviamente io ho acquistato il libro nell'ultimo evento, una festa a lunga attesa in Contea, e quindi Nicolas mi ha gentilmente fatto una dedica, che è personale. E da qui cominciamo con il sommario e una breve introduzione a ciò che ci aspetta. La guida che ci presenta Nicolas è adatta sia adulti che bambini. Adulti perché ci sono delle curiosità di cui vi parlerò presto, che neanche io sapevo, quindi è stata una scoperta. E per quanto riguarda i bambini è molto adatto anche a loro perché è una guida che fa affidamento tantissimo sui colori. Ogni capitolo ha un suo determinato colore. Abbiamo il colore per i capitoli dedicati, non so, ai nani, un colore dedicato per i capitoli degli elfi, e così via. Un colore particolare che si distingue da tutti gli altri, come se fosse fuori dalla palette, per gli oggetti che troviamo all'interno del mondo della Terra di Mezzo. Vi faccio vedere un esempio. Ecco, per esempio, gli Hobbit della Contea sono caratterizzati da questo color celeste chiaro. Invece, per esempio, i nani avranno questo color, mi viene da dire, borgogna, quasi quasi. Eccolo qui. Quindi, diciamo, a livello visivo ha un fortissimo impatto. Ogni capitolo avrà la sua, diciamo, illustrazione dedicata su due pagine o comunque copertina. In questo caso abbiamo quella dei nani. E tutte le illustrazioni che troverete nel libro sono a colori. Guardate che bella quella degli elfi. Stupenda. Quindi, diciamo che, non voglio spoilerarvi tutto il libro, ogni personaggio, ogni storia raccontata da Nicolas, quindi ogni tappa di questo viaggio, ha un colore specifico. E quindi questo rende anche più facile ritrovare qualcosa che si è precedentemente letto. Per esempio, io tra poco vi dirò un'espressione, insomma, una frase che scrive Nicolas qui nel libro che mi ha molto colpito e sono riuscita a ritrovarlo grazie alla memoria perché ho collegato quel capitolo ad un colore. Quindi, l'utilizzo di questi colori diversi per tema aiuta a ritrovare facilmente ciò che magari si vuole appuntare su un quaderno o ciò che magari si vuole anche chiedere all'autore perché no. Quindi, da un punto di vista di edizione, questa guida, questo libro è spettacolare. è curato nei minimi dettagli e le illustrazioni sono qualcosa di epico. Ve ne faccio vedere soltanto qualcun'altra, ma giusto per un gusto mio personale perché mi sono piaciute particolarmente. Ecco qui, però, insomma, non voglio svelarvi nulla. Cosa troverete all'interno di questa guida? Questa non è una semplice guida. È un viaggio, come vi dicevo prima, dove Nicolas ci prende per mano e ci fa addentrare passo dopo passo nella terra di mezzo dove ci farà conoscere vari personaggi e all'inizio di ogni capitolo è come se ci esortasse a concentrarci qui dove siamo in questo momento a leggere il libro e prenderci un momento per noi, chiudere gli occhi e immaginarci, non so, di essere nella contea, per esempio. Quindi ci descrive a parole come se fosse un sogno e ci guida all'interno di questo sogno per farci ambientare nella contea, nei boschi insieme agli elfi, tra i nani e perché no, anche nelle zone più oscure della terra di mezzo. Il linguaggio, come dicevo, è scorrevole, è una guida adatta a tutti ed è ideale per chi intende avvicinarsi al mondo della terra di mezzo. È ideale per i bimbi perché all'interno trovate un test ad inizio libro dove potrete scoprire se siete degli elfi, degli nani, degli obiti di contea e io personalmente ho fatto il test e sono risultata elfo. Più che altro perché il carattere degli elfi è molto pacato e rispecchia molto il mio modo di fare in certe situazioni. Però se devo dirvi la verità, mi sento nella terra di mezzo, nei personaggi che Tolkien ci presenta, mi sento un miscuglio di personaggi. Ecco, gli hobbit perché mi piace mangiare, Eowyn in particolare perché ha una forza d'animo spettacolare, io l'ammiro tantissimo per il suo coraggio e su non mollare, e gli elfi per il loro tono pacato. Quindi diciamo, non ho una figura, ecco, stabile, però questi sono i personaggi con cui più mi ritrovo. Quindi, oltre al test, troverete anche un testo nanico da tradurre, molto bello, e sono sicura che piacerà a tutti. Io personalmente quando l'ho tradotto, mi sembrava di essere ad Erebor, seduta in una sala sotto la montagna, a tradurre questo testo nanico. È stato davvero molto carino. Alla fine di ogni capitolo troverete domande e risposte, e diciamo, un altro punto di curiosità, un approfondimento. Nelle curiosità che troverete, come vi ho fatto vedere a fine di ogni capitolo, ci sono delle informazioni di cui io ero ignara, tipo, per esempio, per quanto riguarda i nani. Nicholas ci racconta che in Turchia, nella regione della Cappadocia, è stata ritrovata una città interamente scavata nella montagna. Io non ne sapevo nulla, non ne sapevo nulla, e questa cosa mi ha scioccata. Così come tutte le informazioni descritte appunto nella zona curiosità per ogni capitolo, ogni personaggio della Terra di Mezzo, sono state veramente delle curiosità e degli spunti, anche di riflessione, se vogliamo, sulla grandezza impressionante di Tolkien, di ciò che ha scritto, di come l'ha scritto, e di come facesse magari a sapere certe cose. Ecco, quindi insomma, è sì una guida introduttiva, ma anche degli spunti di riflessione appunto in questi capitoli dedicati alle curiosità, che secondo me troverete molto interessanti. Nel libro ovviamente non troverete soltanto la caratterizzazione dei personaggi, degli abitanti della Terra di Mezzo, ma anche ricette, c'è la ricetta dell'embas, ragazzi, insomma, già questo vale la pena comprare il libro, ma anche ci sono dei capitoli in viola, come vi dicevo, ad inizio video, è un colore che scosta da tutti, dedicato agli oggetti magici e agli incantesimi che troviamo nel mondo creato da Tolkien. Ecco, in questo caso io ho aperto la pagina così, troviamo i palantir e i bastoni degli stregoni. Quindi è una guida a 360 gradi che troverete entusiasmante e se non avete letto il mondo di Tolkien, né in particolare la trilogia del Signore degli Anelli, sono sicura che leggendo questo vi metterà molta molta curiosità. Da una pennellata ai luoghi e personaggi alla storia, senza però sponerare cosa succede, come succede e perché. La conclusione del libro è letteralmente un colpo al cuore, perché se nell'introduzione e ad inizio di ogni capitolo Nicolas ci abbraccia, o comunque ci conduce in questa passeggiata, in tutti questi luoghi magici e anche oscuri, mano per mano, a fine libro lui ci lascia. Ci lascia perché il viaggio nella Terra di Mezzo si è concluso e vi ritroverete, perlomeno io mi sono ritrovata, totalmente spaisata e dispiaciuta per la fine di questo viaggio. Ma allo stesso tempo vi ritroverete grati per tutto ciò che avete letto, incontrato e visto con queste splendide illustrazioni che sono veramente il top. Volevo soffermarmi su una frase che ha scritto Nicolas nel capitolo 9 dedicato alle bestie del nemico, in particolare quando si parla dei draghi. I draghi sapevano parlare ed erano furbi e maliziosi. Le loro parole spesso facevano più danni delle loro azioni, erano in grado di mettere gli amici gli uni contro gli altri o di instillare la paura e il dubbio nei cuori dei più valorosi. La cosa che mi ha fatto più riflettere è le parole spesso facevano più danni delle azioni. Questa è una grande lezione secondo me che Nicolas mette in questo libro. Perché? Perché le parole sono, a mio parere, il potere più grande che noi abbiamo sia per distruggere una persona, sia per far comprendere quanto amiamo una persona, stimiamo una persona, sia per darci forza, incoraggiarci, ma allo stesso tempo anche autodistruggerci con parole non poco carine nei nostri confronti. Io credo che questo sia uno dei messaggi più forti e importanti del libro e lo troverete appunto quando, durante il viaggio, incontrerete i draghi. Detto ciò, consiglio questo libro a chi non si è avvicinato per niente al fantastico mondo di Tolkien, ma anche ai più esperti, amanti del Signore degli Anelli e di tutto ciò che circonda Tolkien, perché ci sono anche notizie di cui io personalmente ignoravo l'esistenza e non ne sapevo nulla. È un viaggio anche di crescita, sia per bimbi, sia per adulti. Se riuscite a leggerlo bene, troverete dei messaggi molto importanti. Io ve ne ho letto ora soltanto uno, cioè il potere delle parole, che spesso ignoriamo, ma all'interno troverete tantissimi spunti anche di riflessione. Niente ragazzi, io spero, spero di avere l'autore qui a fianco a me prossimamente per una piccola intervista, perché vorrei tanto chiedergli delle cose, ma vi farò sapere, perché ovviamente il nostro mezzuomo è molto molto impegnato, però mi piacerebbe parlare e chiedergli insomma tante cose. Quindi rimanete sintonizzati, non si può mai sapere, e vi esorto tantissimo ad acquistarlo, perché è un viaggio non solo nella terra di mezzo, ma è un viaggio anche attraverso i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Niente ragazzi, per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!